...all'interno del cortile, però noi vi accogliamo con tutto il cuore come se fossero nostri figli, quindi state tranquilli, la nostra scuola rispetta tutte le regole, tutti i regolamenti, sta a loro ora fare appunto attenzione e soprattutto a voi quando a casa bastano e escono appunto la mattina e insomma fai tutte le raccomandazioni possibili, noi abbiamo questo nemico invisibile ma lo dobbiamo combattere insomma a tutti i costi, dovevamo ricominciare e l'abbiamo fatto oggi.